Una studentessa di 13 anni, armata di coltello, è entrata in aula e ha ferito due compagni. Momenti di terrore e violenza, ma fortunatamente le vittime non sono in pericolo di vita. La ragazza è stata fermata dagli insegnanti dell'istituto, che sono riusciti a evitare il peggio. L'episodio è avvenuto in una scuola a Domalice, nella Repubblica Ceca. La tredicenne ha coltellato due compagni di classe, ma l'intervento tempestivo dei docenti ha impedito una tragedia, come riportato dalla televisione CT24. La polizia ha arrestato la giovane aggressora e ha ricostruito i fatti. Secondo le prime informazioni, una delle studentesse ha attaccato i suoi compagni di classe con un coltello. Due bambini sono rimasti feriti e i loro genitori sono stati informati. Abbiamo arrestato la sospettata nel giro di pochi minuti. I due studenti feriti sono stati dimessi con prescrizione di cure domiciliari. Un altro ragazzo, scosso dall'aggressione, è stato affidato ai soccorritori.